Vorrei fare una premessa, la premessa è molto importante in quanto tutte le nostre attività dovevano essere mantenute segrete anche ai nostri familiari, magari qualcosa capivano perché si rincasava tardi ma la scusa ce l'avevamo di avere la fidanzata. La cospirazione agisceva queste regole, non rispettarle poteva benissimo mettermi in pericolo la nostra vita e anche quella di altre persone e di tutta l'organizzazione. Questo per dire, per raccontare la storia dell'arresto e della fine di Mario Rossello. Mario la sera del 9 marzo del 44-45 era con noi, era stato un partigiano di montagna, l'avevamo contattato qualche tempo prima e si era dimostrato molto coraggioso, anzi noi avevamo molta stima di lui, in quanto essendo stato in montagna poteva insegnarci tante cose e in qualche momento di pericolo noi non è che avessimo tanto coraggio, lui ce lo inculcava ed eravamo contenti anche per quello. Mario era con noi, è stato con noi tutta la notte, l'indomani non lavorava, era contadino in quel periodo lì perché era contadino ed era sfollato ed era scappato anche dai San Marco nel quale era stato obbligato per essere stato catturato dai partigiani, nei partigiani di montagna. Era scappato ed era ritornato a casa. Purtroppo l'unico difetto che c'è stato è che non poteva capire e comprendere quali erano i rischi e le regole della resistenza nelle città. Infatti l'indomani, pomeriggio, il giorno 10, si reca in paese, viene qui nella società dei buoi a fare qualche commissione, c'era una società che si chiamava società dei buoi. Entra dentro, vede degli amici, vede anche un gruppo di persone in un angolo che stanno parlottando fra loro. Questo gruppo di persone, curiosito anche Mario, che si è voltato e guardava chi erano. A un certo punto questi signori si mettono a parlare più forte e dicono sentite voi qui nel paese, noi vogliamo andare nei partigiani, conoscete qualcuno che può indirizzarci, eccetera, eccetera. Mario, ingenuamente questa è un'ipotesi, non ufficiale, ma ufficiosa, che sia stata riportata. Mario, ingenuamente, ha detto che lo conosco io. E' bastata questa affermazione per far mettere le manette e portare subito in federazione fascista. L'hanno portato immediatamente con i loro mezzi della federazione fascista che allora era nel comando delle Brigate Nere, che allora era lì nell'attuale prefettura, in Piazza delle Palme, e l'hanno immediatamente portato lì. Hanno cominciato a torturarla, hanno cominciato a picchiarla, e lui non ha parlato, non ha detto niente. Lì domani ci ha andato a trovare la sua sorella, quanto risulta dai fatti, l'ha vista con occhi utomefatti, mancava qualche dente, aveva addirittura una gamba rotta, a quanto pare. E questo l'hanno testimoniato anche due partigiani che erano in cella con lui e che l'hanno visto ritornare dalle torture. Hanno picchiato anche lì domani, il giorno 10 hanno picchiato per tutto il giorno, lui non ha parlato. Non sapevano cosa fare. Se parlava questo ragazzo ci faceva prendere tutti, perché sapeva tutto di noi, dove si abitava, dove era il deposito delle armi, dove i nostri nomi, i nostri cognomi, sapeva tutto. Se avesse parlato, almeno una ventina di persone potevano fare la fine che ha fatto lui, poverino. Non ha parlato e ci ha salvato. I brigattisti neri stanchi di picchiarlo, non potendo fare altre accuse se non quella di aver ammesso di essere stato un partigiano, non potevano processarlo, fare qualcosa di diverso. Ci hanno detto alle 11 di sera del giorno 10 di marzo, ci hanno detto, bene, guarda, ci crediamo, non hai fatto niente, poi ti liberiamo, poi è andata da casa. E lui ha detto, va bene, ha preso via Paolo Boselli, ha andato giù da via Paolo Boselli, ha attraversato Piazza del Monumento, Piazza Mameli, e probabilmente con l'intento di andare a farsi medicare all'ospedale, perché se aveva una gamba rotta, tutti i sensadenti, ematomi dappertutto, l'avevano picchiato persino con quelle guanti di ferro che servono per togliere la canna alle mitrellatrici quando sono calte, fino a quel senso lì l'avevano picchiato. Quindi, ha attraversato via Piazza Mameli e ha imboccato via Ratti. In via Ratti alla metà non ci è arrivato, perché dietro ai piloni dei portici di Piazza Mameli c'erano tre o quattro brigate nere. Ci hanno fatto due o tre sventagliate e lui è caduto lì in mezzo a via Ratti. Se guardiamo via Ratti, sull'angolo con via Concorsa Italia, in alto al primo piano c'è una lapide che ricorda questo ecidio. Ma non era morto Mario, quella sera lì. qualcuno ha avvertito la Croce Bianca che con le soli lettighe che usavano allora con le gomme da biciclette con un'altiga spinta a mano sono arrivati, l'hanno preso e l'hanno portato in ospedale. L'ospedale è arrivato ma ormai era quasi in fin di vita. e ha cercato di curarlo. Ci sono anche i referti medici come testimoniano i dati presi durante il processo ai colpevoli di questo ecidio. I fascisti hanno avuto il coraggio di, visto che qualcuno ha detto che hanno preso la Croce Rossa, Mario Rossello, venuto a conoscenza. Sono andati a vedere in ospedale come, cos'era successo, come stava, come non stava per vedere se era... questo Mario l'ha riconosciuto e ci ha detto Vigliacchi, siete venuti qui a vedermi ma no, mi avete ucciso ma io, mi avete ucciso però io non ho parlato. Alle tre di notte è morto. Grazie. Grazie.